Dal 1979, anno in cui andai a trovare Marguerite Ursenara a Petite Plaisance, e fino al 1987, anno della sua scomparsa, è nata e si è sviluppata una solida amicizia fra Paolo Zacchiera e la scrittrice. Le faceva piacere rendergli visita a casa sua sul Lago Maggiore e a scrivergli quasi 40 fra lettere o cartoline. Doveva sentirsi a lui vicina poiché gli annunciò in una lettera il giorno stesso, l'8 febbraio 1986, la morte di Jerry Wilson, suo compagno a partire dalla scomparsa di Grace Frick, e scelse Paolo Zacchiera per accompagnarla in viaggio in Nepal, programmato per la fine del 1987 e l'inizio del 1988, e che la morte impedì. Questa profonda e vera amicizia si spiega, a mio avviso, perché in Paolo Zacchiera, giovane colto e fervido lettore di Memorie di Adriano e dell'Opera Nero, amante dei viaggi e da vivaista, innamorato della natura e sensibile alla sofferenza degli animali, Margherita Ursenar trovò un essere col quale poter simpatizzare. Non è un caso che proprio in quegli anni Ursenar compose un uomo oscuro, apparso nel 1985. C'è senza dubbio un po' di Natanael in Paolo e un po' di Paolo in Natanael. Entrambi sono corretti, intelligenti e cercano di vivere in comunione con la natura, anche se non privi di cultura. Se Margherita Ursenar considera Zenone un fratello e, in quanto ammiratrice dell'imperatore Adriano, si è considerata appartenere alla Genza Elia, ha trovato in Paolo Zacchiera un confratello e un membro della sua propria famiglia che potremmo definire la Genza Jursenaria. Per Margherita Ursenar la questione ecologica è il grande problema della nostra epoca, legata alla sopravvivenza della terra. Margherita Ursenar non è stata una militante alla stregua di quegli scrittori impegnati che investono in media per difendere una causa o un'altra. Tuttavia, a partire dalla metà degli anni 50, aderisce a diverse associazioni per difendere i diritti civili, la pace e l'ambiente e ha disposto che una grossa quota dei suoi diritti d'autore vadano ad organismi che proteggano la natura. Una piccola riserva ecologica nel nord della Francia porta il suo nome. Tutto ciò significa che continua, e non soltanto grazie alle sue opere, a contribuire alla battaglia per la difesa della natura. Sarebbe presuntuoso immaginare quali sarebbero le forme di lotta che intraprenderebbe oggigiorno. Continuerebbe senz'altro a firmare petizioni, inviare lettere ai giornali, fare conferenze interviste. Perché no? La immaginiamo manifestare. L'ha fatto del resto per opporsi alla guerra nel Vietnam. Marguerite Oxenard scriveva con una vecchia macchina da scrivere, utilizzando la carta carbone e la carta velina per conservare le copie. Ma con un po' di fantasia possiamo immaginarla oggi scrivere su uno smartphone, forse si esprimerebbe nei social. Lei che si defilava dai giornalisti, perché no? Perfino questo atteggiamento ci sorprenderebbe. Una rivista non ha pubblicato qualche tempo fa in Francia che sfonderebbe nei social? Non ha fatto campagne mediatiche, ma le ha provocate. Ed è così che ha coinvolto Brigitte Bardot sulla sorte dei Cuccioli delle Foche, per i quali l'attrice ha fatto una campagna che ha avuto una forte risonanza. Ma oggi come oggi, vista la notorietà conquistata da Marguerite Oxenard, sarebbe lei ad essere sollecitata a diventare la bandiera per le battaglie in difesa dell'ambiente. Marguerite Oxenard ha sostenuto numerose associazioni, ha difeso parchi naturali, ha contribuito ad acquistare terre e creare riserve d'acqua e aria non inquinate e di vita animale e vegetale, come dice nel suo libro, ad occhi aperti. Nessun dubbio che continuerebbe la sua azione in questa direzione e che le stenderebbe ai nuovi problemi apparsi recentemente, tanto più che diventano sempre più urgenti. Ma, prima di tutto, quello che ci ha lasciato è la sua opera, dove troviamo argomenti di riflessione capace di sensibilizzare il lettore. Pensiamo ai paesaggi saccheggiati letteralmente dall'industrializzazione e la topografia infernale denunciata in care memorie. Oppure, per terminare con una nota meno lugubre, alla vita di Nathanael in simbiosi con la natura.